Io lo so, mi ha scattato i tratti cosiddetti, però abbiate pazienza Vabbè ragazzi, qui è Pipponzio e oggi siamo su Pipponzio, no scusate, ho sbagliato la scritta, Slitherio ancora, lo so Vabbè, oggi mi pongo l'obiettivo almeno, almeno dico almeno, 5.000 Dai, allora, buonoci, no, vabbè, vabbè, sono stato stupido io Ok, potrebbe essere interessante qui, potrebbe essere molto interessante Questo l'ammazzo, no, no, meglio lo rischiare Questo qua però sì, e poi muoio anche giustamente, no, perché la logica fa questo, no, vero Allora, non l'ho ripreso, ma è successa una cosa che uno ha ammazzato tre persone, gli ho fregato i punti Tanto qua sta uccidendo gente Poi, l'ho ammazzato e non so perché, cioè, l'ho ammazzato, però si è rigenerato da solo Ok, niente Io non stavo parlando perché se no, no vabbè, come si è salvato Come si è salvato? Beh, si è chiuso da solo, speriamo Si vuole chiudere Grazie Ti voglio bene anch'io Ti volevo perché ormai sei morto Dai Il mio obiettivo è 5.000, ok Vediamo se riesco a farlo Scusate per la voce ma non ce l'ho più Ok, ho visto una persona molto interessante C'è un serpente molto interessante Turkish girl Credo Ragazza turca Ok No, 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 via via Accontentiamoci di questi punti che li sto anche urbando Gli accontentiamo, vabbè, grazie robot Eh, beh, certo Certamente No, perché deve essere sempre così Perché se no il gioco non mi... Il gioco se no mi fa felice E quindi Non può farmi felice, giustamente Dai, morite Dai, dai Il centro è di là Andiamo di là Ragazzi, ci sono enorme Ho ucciso un enorme, ho ucciso un enorme Oh Porta fortuna la voce Che non ho in pratica Vai, 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 vai Paradiso, paradiso dei punti Grazie che l'ho ucciso in un secondo Prima che mi si antassi su di lui C'è questo qui viola Ha fatto il miracolo per me Quanto amore ora Speriamo Eh, grazie Il cavolo anch'io che so stupido Però Dai, facciamo che la penultima partita Ok Non questa Facciamo che la penultima partita Dai, dai, dai 5.000 5.000 Ok Ero a 2.000 E sono morto Dai, l'ultima L'ultima Che poi ho ora fatto anche un'altra partita Aspettate Aspettate Non vi faccio vedere perché è meglio così Fidatevi Ok, ho ucciso uno che doveva prendere i punti Comunque non vi ho fatto vedere perché doveva essere una sorpresa Però poi sono morto, giustamente Come vuole il gioco Sono morto E vabbè Allora Dai che vinco Dai che vinco Oggi lo so, me lo sento Arrivo prima Uh, grazie Cosa ci eravamo detti Che era l'ultima partita Quindi io vi Vi saluto Vi chiedo di lasciare like Se vi è piaciuto Se non vi è piaciuto dislike Di commentare Condividere E ciao Ciao